Wabalaba dab dab e bentornati su No Mamamazzo Continuiamo a parlare di Samuel Stern Siamo arrivati finalmente al numero 18 dal titolo Nella Gabbia Prima di cominciare, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale Mettete un bel mi piace a questo video, anche a tutti gli altri che vi frega Condividete il video con tutte le persone che amano la box E commentate qui sotto con quello che viene parso di questo numero E di come sta andando Samuel Stern secondo voi Nel frattempo, se vi va, iscrivetevi anche agli altri miei social Trovate tutto qui sotto in descrizione Samuel Stern numero 18 dal titolo La Gabbia Cosa posso dire di questo numero? Innanzitutto è un numero che si può leggere tranquillamente Come primo numero di Samuel Stern Voi potete andare in edicola senza aver mai letto Samuel Stern A prendere questo e leggere una storia Diciamo anche autoconclusiva, molto accattivante Che non vi necessita di avere chissà quali nozioni Su tutta la mitologia dietro a questo fumetto Che comunque è un fumetto da edicola Quindi non ha una continuity esagerata Ma comunque ha i suoi stilemi fissi Una volta che voi sapete, intuite qualcosina Sulle proprio le basi di Samuel Stern Cioè sul fatto che il demone nasce dall'interno Poi tutto il numero ve lo potete leggere tranquillamente Senza conoscere tutto quello che c'è dietro E poi magari, se vi piace, potete recuperare gli arretrati Questa storia perlopiù è un flashback Si va nel viale dei ricordi di Padre Duncan E questo ci permette di conoscere e di amare Ancora di più questo personaggio In questa storia quasi ci si alleggerisce Dal peso della storia del mese scorso Il regno Che se per caso vi siete persi la mia recensione Ve la metto qui nelle schede e qua sotto In descrizione Perché non c'è più Non ci sono più tutte quelle lucubrazioni mentali Che ti fanno scavare dentro O almeno che a me hanno fatto scavare dentro Nel numero scorso Questa è una storia molto diretta Molto lineare Molto fisica Perché comunque Samuel Stern Non so se l'avete già notato È molto più fisico rispetto per esempio a Dylan Dog Che è il classico dandy Che difficilmente fa botte Samuel Stern ha un passato da pugile Da comunque pugile amatoriale E lo vediamo spesso scontrarsi anche fisicamente Con i demoni O con le persone che si parano sul suo cammino Qua è a tutti gli effetti una storia In cui c'è questo parallelismo Tra il combattimento interiore Diciamo dell'anima Di una persona Che ha dei demoni interiori È il combattimento fisico Tra due pugili Tra due lottatori Il sentimento predominante All'interno di questa storia È la rabbia La rabbia è la vendetta E il messaggio Alla fine di questo numero È che se passiamo tutta la vita A rincorrere un mostro C'è il rischio Che diventiamo noi stessi Un mostro Ed è molto difficile poi Riuscire a risalire la china È una storia di per sé Molto lineare C'è molto come dicevo Di flashback Quindi vediamo molti retroscena Conosciamo il personaggio di Ray Amico del passato di padre Duncan E del figlio di Ray Joe Che lo vediamo sia quando era bambino Nel flashback Sia da adulto È una storia lineare Che devo dire solo A pagina 70 Di 96 in generale Mi ha fatto un attimino Intuire Quello che poteva essere Appunto il plot twist finale Quindi complimenti Alla sceneggiatura La sceneggiatura è di Marco Scali Che al suo esordio Nelle testate di Samuel Stern Già che ci siamo Nominiamo anche il disegnatore Di cui vi ricordo sempre Farò un video Sulla mia Instagram TV In cui vi mostrerò Proprio velocemente Alcune tavole I disegni sono di Ludwig Cacederegatti Che è la sua seconda Esperienza Su Samuel Stern Gli appunti del Daryl Imparagonano La nostra bramosia Di vedere due uomini Combattere Due guerrieri Azzuffarsi Al fatto che All'interno di noi stessi Ci sia Non solo un'anima Ma parti Sfaccettate Della nostra anima Che combattono Per prevalere E a volte Se ci pensate È proprio quello che succede Noi siamo spesso Combattuti Non siamo sempre D'accordo Con noi stessi C'è una parte di noi Un po' più animale E una parte di noi Un po' più alta Un po' più educata E spesso Queste due parti Sono in conflitto Si può definire Questa cosa A livello spirituale Si può definire Questa cosa A livello psicologico Tant'è che spesso Ci troviamo A combattere Una battaglia Molto più importante Di quelle che combattiamo Al di fuori di noi Che è la battaglia Per noi stessi Per quello che vogliamo essere Io non voglio parlare troppo Di questa storia Perché francamente Mi piace Parlarne in questo modo Cioè senza fare troppo spoiler Potrei parlarne spoiler Ma francamente Non ci sarebbe molto da dire Perché come ho detto È una storia molto lineare Non si va a scavare Più di tanto Ce la si gode Tranquillamente È proprio una Una storia Che è bello leggere Così Senza Appunto Parlarci troppo Una cosa che ho notato Ma magari è una mia esperienza personale Fatemelo sapere qua sotto Nei commenti È che Da questa storia Alla storia del mese scorso Mi sembra sia passata Un'eternità Non so Se perché La storia del mese scorso Ci ha soddisfatto A tal punto O ci ha angosciato A tal punto Da Non darci L'hype Necessario Per questo mese O se È stata appunto Una mia esperienza personale Fatemi sapere Se voi Quando avete preso in mano Samuel Stern Numero 18 Vi siete chiesti Ma Il mese scorso Di cosa si è parlato Oppure se Invece avevate Un hype Della Madonna Per leggere Questo numero Che comunque È scollegato Diciamo È indipendente Dal numero scorso Come spesso accade Però Ho avuto questa sensazione Non è una sensazione Negativa per forza Anzi È bello riscoprire Da nuovo Ogni mese Un fumetto nuovo Un Samuel Stern L'unica L'unica Controparte È che magari Ti cala un pochino L'attesa La voglia Di andare Di correre In edicola A prendere Questo numero Ma non temete Perché tanto Tra una settimana Questa voglia Di Samuel Stern Verrà soddisfatta Di nuovo Perché uscirà L'8 maggio Gli appunti Del Derry Lang Data particolare Perché è lo stesso giorno In cui uscirà anche Dylan Dog Color Fest Quindi anche lì Chissà Di cosa parlerò Per primo Non lo so Dipende da quanto Durerà un fumetto E quanto l'altro Comunque noi ci rivediamo Tra una settimana A parlare di nuovo Di Samuel Stern Nel frattempo Vi ringrazio per aver visto Il video fino in fondo E noi ci vediamo Come sempre Nel prossimo video Arrivederci